Benvenuti su DP Track. Io sono Lucio Lepri, sono un direttore della fotografia e sono qui per introdurvi sia a questo canale che al sito dptrack.it. In entrambi i luoghi si parla di direzione della fotografia. Sul sito sono già presenti numerosi articoli che spaziano dalla teoria del colore alla distanza cinematografica fino a arrivare alla color grading, tutto partendo dalle basi ma in ottica avanzata, quindi evitando quei postulati inesatti come i grandangoli hanno più profondità di campo dei teleobiettivi. Su questo canale apriremo varie playlist suddivise per tema e tratteremo soggetti che andranno da approfondimenti di temi già affrontati sul sito a interviste, backstage di produzioni e ci sarà anche una storia del cinema visto come industria, linguaggio e fenomeno sociale. Il primo di questa serie di video è già presente sul canale, link in descrizione. Il nostro obiettivo con DP Track è quello di allontanare chi vuol fare cinema dalla mentalità del videomaking, mostrando al contempo come oggi anche con una macchinetta fotografica sia possibile realizzare lavori in grado di sostenere il grande schermo. Vogliamo risulti evidente quanto piuttosto che passare ore e ore a leggere specifiche di attrezzature e guardare recensioni online sia importante imparare a utilizzare l'attrezzatura alla quale si ha accesso, perché l'obiettivo migliore non varrà mai un decimo dell'inquadratura giusta. In sostanza con DP Track vogliamo accelerare la nascita ormai inevitabile di una nuova forma di cinema indipendente, per sfuggire alle trappole che stanno imbrigliando quello attuale. A questo punto vi invito a farvi un giro su dptec.it e a presto!